Un intervento importante di 800 mila euro che riqualificherà e adeguerà dal punto di vista sismico ed energetico la scuola Lioni-Cascella di San Silvestro, ma adeguerà anche ai criteri di efficienza, di nuova fruibilità degli spazi e perché no anche di bellezza questa struttura costruita negli anni 70. Un intervento necessario che ristabilisce da un punto di vista energenico l'efficienza, come dicevo prima, ma che poi va nel solco del lavoro che stiamo facendo su tutti gli edifici scolastici, su 53 edifici scolastici della città di Pescara che puntano all'adeguamento sismico e all'efficienza energetica, ma anche, come dicevo prima, dei criteri che servono per la formazione dei ragazzi che devono formarsi in una scuola sicura, ma d'altro canto in una scuola bella e fruibile. Oggi avete deciso, tra l'altro, di illustrare questo progetto in questa assemblea pubblica con i residenti di San Silvestro e con i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola. Sì, ci teniamo perché è un lavoro importante, lo abbiamo condiviso con la preside, con i genitori, con le famiglie anche perché ogni realizzazione comporta un periodo di sacrificio, cioè di chiusura della struttura della scuola di San Silvestro i ragazzi verranno trasferiti nella scuola di via Rubicone. Noi crediamo molto in questa progettualità, crediamo molto nella sicurezza delle scuole e sicuramente completeremo questo lavoro di consolidamento e di rammendo tra la città consolidata e le periferie con il bando di 18 milioni di euro che andrà a intervenire in tutti quei quartieri che negli anni non hanno conosciuto il sole degli interventi.